Buongiorno a tutti i colleghi, per le parole di introduzione, ringrazio sicuramente i presenti e il pubblico reale per la nostra realizzabilità e la mia esposizione. La mia esposizione mi ha sperato sostanzialmente, in qualche modo, il produttore, che ha già messo a poco sui temi che io cercherò di svolgere in modo privilegiato questo mio intervento, e cioè in qualche modo la questione religiosa, che Gugliano è stato appigliato per la scuola dei polemici cristiani, per la scuola che è fissuto infamante di apostata, e cercherò di inquadrare anche alcuni elementi, alcune caratteristiche del periodo in cui Gugliano si trova adoperare. Il dato essenziale del mio presente è che Gugliano regnò di fatto per un periodo di tempo molto greve, perché ero un imperatore unico dal 1 di dicembre del 361 al fine di giugno del 363, quindi diciamo poco più di 18 mesi, e la sua proclamazione imperiale, la prima proclamazione della sua proclamazione imperiale era venuta a Parigi, che era una piccola località della Gaglia, settentrionale, all'epoca, al 1660. Ha di fatto il suo regno per euro, che è durato poco più di 18 mesi, questo è un dato molto importante, che si deve tenere qui, 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 si deve tenere conto un po' salto, perché abbiamo di Giuliano una quantità di scritti veramente impressionante, quali non abbiamo di un altro imperatore romano, perché Giuliano era persona di grandi culture, grandi studi, era formato nell'intensità delle scuole filosofiche del tempo, con una traduzione tra le studi e fuori del comune, questa si traduce in una serie di scritti, che sono un'unità pervenuti, che vanno da panigirici, a trattati di divinità, e a molte lettere, delle quali pure molto sembraneamente, per visitare il corso della mia esposizione, e dall'ultimo, come vedremo, Giuliano ha scritto anche un grande trattato, in natura teologico-filologico, il trattato contro i Galilei, ovvero contro i cristiani, un trattato che però non c'è se non attraverso la conflutazione fatta da un suo grande antagonista, cioè dal patriarca di Alessante, Cirillo, che la conflutazione tra i generazioni dopo la morte di Giuliano. Tra l'altro, lui ha scritto anche, e questo è un problema che vuole moltissime, ha la sua corrispondenza, è miniera anche per capire i rapporti, la natura sociale e politica, ma anche religiosa, perché il giovane imperatore, che gli hanno dato al 331, che hanno diventato il imperatore a poco più di 30 anni, aveva via Instagram. Abbiamo anche pare una persona, una personità davvero fuori del comune, e per l'intensità di studio, e per qualità intellettuali, e anche per l'impegno politico e anche religioso, di popoli. Ecco, lasciatemi, come dire, farmi già un po' spettacolo, un po' asciutto, ma che ha un po' significato, credo. Cioè, il preveregno di Giuliano è creduto, certamente, condizionato dalla questione religiosa. Ecco, qua, a mio avviso, va considerato, peraltro, come la vita pubblica del IV secolo dopo l'Utto, non fosse, in realtà, dominata dal conflitto religioso tra cristiani e pagani. C'erano anche altri interessi, in gioco, in cui si deve tenere tutto, per valutare, e spesso, le reazioni che è suscitate da Giuliano nel corso della sua attività. Dobbiamo anche ricordare un dato essenziale, che quello che era peculiare del politismo non poteva essere, come dire, progetto di un semplice punto privato. Perché il politismo, se lo chiamiamo il paganismo, questo che potrebbe chiamarlo politismo, è come religione pubblica, quando religione pubblica richiedeva lo Stato, quindi, nello specifico, è una forma di sostegno imperiale. Perché se non c'era lo Stato di sostenere il politismo, il politismo era destinato, quindi, relativamente, a venire meno, perché non aveva neanche più una sua ragione destra. E, a sua volta, il sostegno imperiale significava la sopravvivenza della complessa, anche tradizione, culto dell'imperatore, particolare dell'apoteo, dopo la morte, con tutta la serie di pratiche locali che si manifestavano nella concretezza della vita quotidiana e rendevano evidenti come le varie comunità negoziassero la loro collocazione all'interno dell'imperatore. Si tratta quindi, come capite, di un elemento, direi di natura strutturale, permanente, a prescindere anche dallo stesso cambiamento delle sensibilità e di gioco. E qui, ecco perché la svolta costantiniana è stata così importante. Perché la scelta di Costantino, a favore del cristianesimo, non ebbe conseguenze, come dire, immediatamente percepibili, avvertibili nell'organizzazione del programma imperiale e sull'interno dell'imperatore che lo governava. Ma di fatto ci fu un profondo riordinamento non si è ero. Grazie a tutti.